Buongiorno, buongiorno Regione Rezio Vita, eccomi qua scusate tante perché Zio Vita è mancata da diciamo una settimana, dieci giorni, lo so ma ho avuto problemi con la prostatama ed è che bruciava la prostatama e il catere perché diciamo che ho avuto problemi con internet perché io ho il catetere e ce l'ho in wireless, qui scarico a casa, ovunque mi trovo, ho avuto problemi che dice che non avevo pagato le bollette e quindi mi hanno tolto l'indirec, togliendo l'indirec chiaramente a ruolo mi è venuto meno il catere ma non sono cose che si diche, sono cose molto personali, ho rinato, ho fatto l'orina la coltura e niente e quindi adesso ho la prostatama che mi bruci, ma non so se diciamo ci attendo che mi hanno fatto, Irina mi ha fatto una manovra, la prostatama si fa una manovra per mettere a posto che c'era la prostatama e me l'ha girata ed era infermiera in Romagna e niente e quindi mi ha girato la prostatama e mi ha toccato e quindi adesso va un po' meglio però mi ha detto attenta che si può strozzare ma io non voglio fare male a nessuno quindi non voglio che non voglio mettere male in canna a nessuno manca la mia prostatama e comunque ora leggevo il giornale diceva che mi ha già fatto una giornata di dei ospita, mi hanno ospitato ospitali praticamente all'eccellenza del San Carlo e niente è che poi parliamo un'altra volta dell'eccellenza se ho visto c'è certe eccellenze da dire e quindi ho letto che c'è questo problema con la sita che non paga a fissa alla bacchica i dipendenti, mille dipendenti che non pagano il mese di novembre perché c'è un problema di fatturazione con la provincia ma i sindacati hanno detto che questo rimballe va ad essersi da tanto tempo, allora dico io perché fanno questo giochetto da troppo tempo presente alla provincia e allora dico io loro citano l'articolo quindi ma carissimi sindacati, carissimi uomini della sita che fanno un lavoraccio che portano i posti, i postali, allora l'articolo quindi chi tene a mano ha vinto e abbiamo già capito che chi tene a mano ha vinto no? e quindi la vita sotto sta purtroppo però io consiglio visto che hanno fatto lo sciopero, hanno detto lo sciopero del 12, allora io farei più sciopero che fossero posti io diciamo degli operai, degli autisti della sita perché rimanere senza i mezzi che ormai ho freccia rossa, la gente, la gente, nessuno lo crede, non arriverà mai e poi mai, manca la freccia bianca, manca l'argento, manca la cazzo, manca l'arco arriva a noi, figurami se vuole arrivare alla freccia e quindi dico io, scioperiamo, ci rimane tutta la gente che viene dai paesi che non possono arrivare così anche la gente si mobilita perché poi le persone sono bravi a criticare quando dicono hanno fatto il sciopero e non posso arrivare, ma uno deve sapere perché qualcuno fa il sciopero e queste persone hanno ragione perché non possono portare lo stipendio a casa e tutto sempre e comunque sempre purtroppo al vostro casa vostra ragrete però all'oro, a chi comanda. Tante salute, grazie a tutti.